Questo è il tipo di Dio che sarai, vero? Serio e affaticato. Pensavo che sarei stato così impaziente di sostituire nostro padre, sai? Ma invece ho dei dubbi. In realtà credo di capire. Ti senti indegno. Ah, no, non è questo. Di sicuro mi sento degno. Chi altri potrebbe? No, è che ho passato tanto tempo a guardare dall'alto l'umanità. E ora... Lo sì, io amo vivere tra loro, capisci? Ho finalmente imparato a legare. Mi sono fatto una vita qui. Molti amici. Una famiglia. Se devo essere sincero, io... voglio che niente di questo cambi. E allora che c'è? Stai pensando di tirarti indietro? No. Sarebbe da egoistico, sì. Devo accettare il mio compito divino. Fa ciò che ti rende felice. Vorrei che fosse così semplice. Beh, forse può esserlo. Cioè se qualcun altro fosse disposto a prendersi la responsabilità a qualcuno che sia degno? Chi? Io, è ovvio. Questo è proprio quello che mi serve per mettermi alla prova. Cosa? Mi hai sentito, fratello. Ho appena deciso. Io voglio essere Dio. Ho appena deciso. Ho appena deciso. Ho appena deciso. Ho appena deciso. Ho appena deciso.